Salve ragazzi, in questo video vi illustreremo un programma che vi consente di effettuare la steganografia, ossia vi permette di nascondere un documento all'interno di uno o più file mediante l'utilizzo di uno o più password. Il programma si chiama OpenPath e potete scaricarlo accedendo al sito embedded.sw.net e quindi alla sezione OpenPath. In questa pagina quindi trovate il link per scaricare l'archivio zip contenente l'esercizio del programma, oltre ha la possibilità di scaricare anche il sorgente del programma. Una volta finito di scaricare quindi l'archivio, lo apriamo e lo estriamo sul nostro desktop. Ok. Il programma quindi non deve essere installato, non modifica alcun file di registro e è possibile eseguirlo su un qualsiasi sistema operativo Windows. Aspettiamo quindi che si avvii il programma. Come potete vedere l'interfaccia è molto semplice e intuitiva. Cliccando su Hide vi permetterà quindi di effettuare, di nascondere quindi il documento in più file. Unhide invece al contrario di prelevare un documento da nascosti in uno o più file e invece tramite SetMark, CheckMark e CleanUp permetterà in ordine di inserire una firma nei file, di visualizzare la firma presente nei file oppure di cancellare la firma dai file. E infine sotto abbiamo i collegamenti al sito dello sviluppatore. Quindi clicchiamo su Hide e nascondiamo quindi un nostro documento di testo creato precedentemente all'interno di più file immagine. Quindi per prima cosa inseriamo una password e le altre due le disabilitiamo ma volendo è possibile anche inserire le password per ottenere una maggiore sicurezza. Poi selezioniamo il nostro documento txt e quindi aggiungiamo quelli che vengono chiamati carrier, ossia i file che conterranno il nostro documento nel nostro caso delle immagini. Noi dobbiamo inserire un numero di file che possa coprire i 550 byte del nostro documento infatti un'immagine non basta. Come potete vedere è ancora rosso e indica che non siamo arrivati a 554 byte quindi aggiungiamo altre. Se come vedrete tra poco le immagini però sono più del dovuto ci viene notificato vedete ad esempio la quarta che non è usata e quindi possiamo anche cancellarla tramite il tasto canc. Ok. A questo punto quindi non ci resta che cliccare su Hide data. E' importante comunque ricordarvi l'ordine in cui avete messo i file poiché se mettiamo un ordine differente non è possibile poi riottenere il documento. Ok. Clicchiamo su Hide data. Scegliamo la cartella in cui salvare i nostri file contenenti del documento. Scegliamo questa. Ed aspettiamo quindi che vengano processate e quindi venga inserita il nostro documento nelle immagini. Ok. Viene quindi visualizzato un report. Clicchiamo adesso su Done. Adesso per riottenere il nostro documento clicchiamo su Unhide. Inseriamo la pasta che abbiamo inserito in precedenza. Quindi disabilitiamo le altre due perché ne abbiamo usato una sola e aggiungiamo i file carrier, quelli che contengono il nostro documento, ossia queste tre immagini. Apri. Aspettiamo che le immagini vengano caricate. E una volta che vengono aggiunte tutte e tre immagini clicchiamo su Unhide. Selezioniamo la cartella, ad esempio, file nascosto. Una volta processato quindi ci ritroveremo il nostro documento che era stato quindi nascosto nelle tre immagini. Vedete, esattamente come quello originale. Ok. Come potete vedere le immagini che contengono il file nascosto sono delle immagini come quelle originali, quindi non si nota alcuna differenza. Inoltre, c'è da ricordare che se per caso sbagliate a mettere l'ordine, non andrà a buon fine il processo inverso, ossia di riottenere il nostro documento. Vedete, ad esempio, in questo caso ho messo un ordine. sbagliato e il processo, come vedrete tra poco, non è andato a buon fine. Ok. L'altra funzionalità di questo programma è anche quella di poter inserire una firma nei nostri carrier. Quindi, ad esempio, se vogliamo inserire la firma Witec, aggiungiamo le nostre immagini immagini che avevamo creato e aspettiamo che queste vengano elaborate. Quindi, clicchiamo su Set Mark e scegliamo la cartella in cui devono essere salvate. Adesso, tramite Check Mark, possiamo verificare la presenza di una firma nelle immagini. Quindi, andiamo a selezionare le immagini appena create. Cliccando su Check Mark e, una volta atteso l'elaborazione, ci verrà quindi visualizzata la firma presente in ognuna delle tre immagini. Vedete? Premiamo su OK. In ogni immagine, immagine 1, presente la firma Witec, immagine 2, quindi la firma Witec e anche nell'immagine 3. Ok. Con Clean Up, infine, è possibile rimuovere la firma dalle immagini. Quindi, nel nostro caso, queste tre immagini, una volta elaborate, clicchiamo su Clean Up e ci dice che, ci informa ovviamente che la firma verrà permanentemente cancellata, se sicuro. Mettiamo sì. E una volta elaborate le tre immagini, la firma verrà rimossa. OK. E con questo la nostra guida è terminata. Grazie per averci seguito e continuate a seguirci su www.witec-tec.eu e alla prossima! Grazie per averci seguito e continuate a seguirci su www.witec-tec.eu